E se vi dicessi che dietro a questa immagine c'è un fondamento scientifico? Sali a tutti amici! Pensavate che avrei parlato di squali, vero? E invece no, oggi si parla di ricci di mare, animali sicuramente meno temuti degli squali, ma che ogni anno minacciano i piedi di migliaia e migliaia di bagnanti. I ricci fanno parte del film delle chinodermi, che condividono insieme a stelle marine, cetrioli di mare, ofiuri e crinoidi, queste strane creature che sembrano appena uscite dal carnevale di Rio. I ricci più diffusi nei nostri mari sono due, Arbacia rixula, riccio nero e Paracentrotus lividus, il riccio comune, quello comestibile, detto anche riccio viola o riccio femmina, anche se non sempre sono viola e soprattutto non sempre sono femmine. Si tratta di animali a sessi separati, anche se è impossibile vedere la differenza tra maschio e femmina a occhio nudo. La loro struttura esterna la conosciamo bene o male tutti, un dermascheletro tondeggiante ricoperto da una serie di aculei, entrambi composti da carbonato di calcio, stesso materiale delle conchiglie o dei coralli. A loro interno invece troviamo le gonadi, la parte commestibile, un sistema nervoso relativamente semplice e l'apparato digerente che va dalla bocca, che è rivolta verso il basso, all'ano che invece si trova sulla porzione apicale dell'animale. Aprendo un riccio di mare si può poi vedere questa strana struttura visibile chiaramente a occhio nudo e il suo apparato buccale, detto Lanterna di Aristotele. Il nome lo prende dalla prima descrizione che ne fa Aristotele nella sua Historia Animalium, che lo paragona proprio a una lanterna, certo con un po' di fantasia, anche perché le lanterne diffuse in Grecia somigliavano più a queste che a queste qui. Potremmo dare la colpa, la fantasia galoppante di questi antichi filosofi, ma la verità potrebbe essere diversa. Degli studi recenti suggeriscono che Aristotele nel suo trattato abbia scritto soma, ovvero corpo in greco, e non stoma, bocca. Pare che si sia trattato di un errore di traduzione. E così ha più senso se ci pensate. Aristotele probabilmente voleva dire che l'intero riccio assomigliava a una lanterna. Ma ormai il termine Lanterna di Aristotele è entrato all'interno del vocabolario scientifico. Viene usato da generazione e generazione di scienziati per indicare la bocca del riccio di mare, quindi con buona pace di Aristotele il nome rimarrà quello. Il danno è fatto. Ritorniamo al nostro riccio. Questo apparato buccale è formato da 5 robuste placche che formano una specie di becco che serve a raschiare e masticare qualsiasi cosa si trovi a tiro. Il riccio comune infatti è prevalentemente erbivoro. Bruca le piccole alghe che ricoprono le rocce ed è particolarmente ghiotto di posidonia oceanica. Ma se il cibo scarseggio può mangiarsi anche le alghe coralline, che sono croccantelle difficili da masticare e addirittura può arrivare ad assumere una dieta onnivora nutrendosi di spugne, idrozoi, briozoi, copepodi, praticamente tutto ciò che li capita sotto mano, sotto aculeo. Questa era brutta. Qualche scienziato ha persino provato ad alimentarli in laboratorio con delle cozze. Quelli se le sono mangiate. In un'altra occasione hanno trovato all'interno dell'apparato digerente dei resti di altri ricci. Certo, si tratta di casi isolati, ma vuol dire che esiste il fenomeno di cannibalismo fra ricci. Ve l'ho detto, sono tremendi, si mangiano di tutto. Ho trovato degli altri articoli che suggeriscono come i ricci possano integrare la loro dieta assorbendo la materia organica che fluttua in acqua. L'assorbono tramite le aculei, a quanto pare, anche se il meccanismo non è ancora così chiaro. E questa cosa io non me l'aspettavo. Anzi, se devo essere onesta, molte delle cose che ho trovato in questo video non le conoscevo prima di studiare in questi giorni. Il video previsto per oggi doveva essere tutt'altro argomento. Volevo parlare di ricci, è vero, ma affrontando più l'aspetto culinario, la loro riproduzione, le gonadi, la parte che mangiamo, il fermo biologico, il ciclo vitale. Anche perché non credevo ci fosse molto altro da dire. Animali così semplici che fanno. Mangiano, fanno la cacca, si riproducono e muoiono. Basta, che altro c'è da poter dire? E invece no, non vi fate tanto scemi questi ricci. Vanno in giro, fanno cose, percepiscono il mondo che li circonda. Si muovono grazie agli aculei, che sono mobili, e ai pedicelli ambulacrali, centinaia di piccoli piedini che si allungano e si contraggono attaccandosi alle rocce. Il loro movimento è alimentato non da semplici muscoli, ma dal sistema acquifero, un particolare sistema di vasi contenenti acqua di mare. La muscolatura nei ricci serve a modificare la pressione idraulica dei canali, facendo muovere l'acqua al loro interno e quindi allungando o accorciando i nostri pedicelli. Il sistema acquifero è comune a tutti quanti gli echinodermi e serve sia per spostarsi da una parte all'altra che per respirare. Ora che abbiamo capito come si muovono, bisogna vedere dove vanno. I ricci sono animali principalmente ai notturni, percepiscono la luce attraverso dei fotorecettori sparsi sul corpo e quando cala il buio partono alla ricerca di cibo. Questo serve ad evitare la maggior parte dei predatori. Ma se i predatori sono notturni? I ricci sono un passo avanti. Nelle zone dove ci sono un gran numero di predatori notturni, i ricci invertono le loro abitudini e iniziano ad andarsene in giro di giorno. Questa sembra un'azione semplice, ma se ci pensate non è per niente scontata. Come devono fanno a capire a che ora c'è più probabilità di essere sbranati? Si ritiene che i ricci siano in grado di percepire i fluidi corporei degli altri ricci, sostanze che si liberano quando gli esemplari vicini vengono aperti e divorati da un predatore. E sono in grado di associare questo odore che diventa un segnale di pericolo con l'intensità luminosa che riescono a percepire. Quindi se c'è buio e sento odore di cadavere, meglio muoversi di giorno e viceversa. Come vedete, i ricci si danno un grande affare per cercare di sfuggire ai predatori, visto che le spine, per quanto accuminate, non bastano, soprattutto se in acqua ci sono sareghi, murici, stelle marine, pugliesi. Un'altra strategia che adottano per proteggersi è scavarsi delle tane nella roccia, sempre grazie alla robusta lanterna di Aristotele. Che io sappia, questo è un comportamento adottato soltanto dal riccio viola, Paracentrotus lividus, mentre il riccio nero non fa la stessa cosa. Infatti è possibile riconoscere le zone dove sono presenti i ricci di mare perché gli scogli iniziano ad assomigliare a una fetta di Emmental. Finiamo però con un'altra curiosità, quella che vi ho promesso sin dall'inizio, il cappello. Chi ha osservato questi animali in natura può aver notato che alcuni di loro sono ricoperti da piccoli oggetti, sassolini, conchiglie, molto spesso da alghe. Ebbene, non è un caso, si li mettono apposta. Questo comportamento, che si può osservare soprattutto in estate, è stato considerato da alcuni un modo per proteggersi dalla luce eccessiva, soprattutto dalle radiazioni ultraviolette. Un'altra ipotesi è che sia una forma di mimetismo, un altro modo per proteggersi dai predatori, o ancora qualcuno ha suggerito che possa servire ad evitare che detriti, sabbia, entri nel delicatissimo sistema acquifero di cui abbiamo parlato prima. Insomma, le spiegazioni sono tante e onestamente la maggior parte sono convincenti, supportate anche da buoni dati, e nulla vieta che un singolo comportamento possa servire a più cose. Fatto sta che, qualche anno fa, un acquariofilo con una stampante 3D e tanta fantasia, ha deciso di sfruttare questa propensione dei ricci per indossare qualsiasi cosa, per creare questi mini cappellini. Ha aperto anche un negozio suezie, andatelo a vedere perché le foto dei clienti, io le trovo esilaranti. Io non ho un acquario, non lo avrò mai, perché se non riesco a ricordarmi di innaffiare le piante, figuriamoci se riesco a dar da mangiare i pesci, però se lo avessi, li comprerei, lo ammetto. Ebbene ragazzi, io ho finito con le curiosità del giorno, e spero vi sia piaciuto il video. Ricordatevi che nessun animale è tanto banale da non poterne parlare insieme. Come vedete, la natura è sempre più complessa di quanto ci possa sembrare al primo sguardo. Guardate quante cose si possono dire su esseri sottovalutati, come le cozze o i ricci di mare. E sui ricci di mare non ho ancora finito, c'è tutta la parte di riproduzione, che è bella interessante, bella succosa, nel vero senso del termine. Però di questo ne parliamo un'altra volta. Io vi auguro una buona domenica e ci vediamo alla prossima. Ciao!